Ho detto avanti buffi! Fateci ridere! È vero che volete ridere? Sì, vogliamo ridere! Franco e Ciccio, due artisti che hanno riso di tutto e di tutti, anche di loro stessi. Non si vede niente? Per forza, ero gioccioso! Ma perché ti devo fucilare? Perché? Perché? La domenica mi lascia sempre solle! Come inguagliamo il cinema italiano, la vera storia di Franco e Ciccio. Ma perché non lo dici chiaro? Io recitavo per le strade. Snobbati dalla critica. Mi dia il pistone! Porteggiati dai produttori. Nell'anno 64 ho fatto 17 film. Adorati dal pubblico. Come inguagliamo il cinema italiano, nel racconto cinico e tagliente di Cipri e Maresco. Per la coppia Franco-Franco e Ciccio-Grassia, questo è colpa di... L'arrivo! Con l'arrivo! Con l'arrivo degli anni 70, l'arrivo! Franco e Ciccio avevano un grandissimo successo. Alla fine, quando Modugno ringraziava, il pubblico chiamava Franco Ciccio, Franco Ciccio. Perché il bigliettino non ce lo fa? A disponizione ve lo faccio! Come inguagliamo il cinema italiano, la vera storia di Franco e Ciccio. Due vite in una risata che ancora continua, dal 23 settembre, nel cinema. Vabbè, niente.